Emiliano perde un altro pezzo. Come era stato annunciato l'assessore alla cultura e al turismo della regione Puglia, Massimo Brai, si è dimesso. E' il secondo assessore della giunta guidata da Michele Emiliano a dimettersi. Pochi giorni fa è stato Pierluigi Loparco a lasciare la delega alla sanità. La decisione di Brai, ha spiegato la regione, arriva dopo un percorso di condivisione con Emiliano che terrà per sé in questa fase la delega alla cultura. Brai spiega tra l'altro che per le difficoltà personali che affronta da alcuni mesi e per le indicazioni ricevute dai medici non ritiene di essere nelle condizioni di adempiere le funzioni che sono state assegnate. Dimissioni che sarebbero dunque state concordate con il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che ora sarà costretto ad un rimpasto. Qualche novità potrebbe arrivare a fine mese quando il Tar dovrebbe dare il via libera all'ingresso in consiglio regionale di Antonio Scalera della Puglia domani, di Vito De Palma di Forza Italia e Carmelo Grassi del PD. E proprio quest'ultimo avrebbe il profilo ideale per sostituire l'Ebrai. Intanto si fanno anche i possibili candidati per sostituire l'Opalco alla guida della sanità. Tra i nomi che circolano quelli di Rocco Palese, ex candidato alle elezioni regionali e Francesco Schittulli, l'oncologo già presidente della provincia di Bari, per il centro-destra.